Cellular art vuol dire anche artefici dei cellulari, quindi chi è stato questo che l'ha creato e chi oggi pensa, se c'è qualcuno che lo farà e se non c'è nessuno ancora per il recupero di questo materiale, che è tutto materiale plastico ma sono anche materiali tecnologici molto raffinati, che recuperati in un certo modo possono essere utili alla società. Il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, apre le sue porte a cellulare con la mostra da meucci allo smartphone verso un'economia circolare. Evidenziando più che altro chi degli uomini hanno partecipato a questa corsa sul brevetto della telefonia, quindi su quello che poi ha invaso il mondo come mezzo e come metodo per la comunicazione vocale attraverso i fili in questo caso, che poi dopo è diventato wireless, poi è diventato cellulare e così via. Con Cellular art il museo centra la sua attenzione nella telefonia, uno dei settori storici proposti nell'esposizione permanente, approfondendo con esposizioni e convegni la tematica della storia della comunicazione, affrontata nelle sue tappe essenziali dalla nascita ai nostri giorni. Da qui si vede proprio in parallelo a quello che esiste già dentro le vetrine del museo, un arricchimento di quella tematica che riparte dai primordi, quindi siamo nel 1865, nel 1871, nel 1876 con Bell che poi invaderà il mondo con il suo brevetto definitivo. Obiettivo principale di Cellular art è la creazione di una cittadinanza consapevole sulla tematica dell'inquinamento, inteso anche come strettamente legato all'uso e allo smaltimento del cellulare, oggetto del quale ad oggi nessuno può fare a meno. È un'opportunità di riflettere sul tema dell'accumulo del materiale tecnologico. Dove stiamo andando? Ciò dobbiamo porre, questo interrogativo, specialmente in questa che è la giornata mondiale del futuro, che viene peraltro due giorni dopo la festa della Toscana, che aveva come motivo di riflessione quello dell'articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, quale il telefono, per esempio. Però deve essere un uso garbato, un uso intelligente, ci deve essere consapevolezza, ci deve essere maturità.